Il sistema GMDSS è stato reso obbligatorio a livello mondiale in ambito mercantile dal 1 febbraio 1995. Già da qualche anno il sistema è fruibile anche per le unità da diporto. In relazione alla specifica area di navigazione si dovrebbero installare a bordo gli apparati atti a garantire che qualsiasi comunicazione di emergenza inoltrata venga ricevuta dalle navi circostante e dalle centrali di coordinamento delle attività SAR operanti a livello globale e coordinate dalle centrali MRCC, Maritime Rescue Coordination Center, facenti capo a ciascuna guardia costiera di tutti i paesi. Sono state definite quattro aree di mare, A1, A2, A3 e A4. La classificazione delle diverse aree di mare è legata alla capacità delle singole stazioni costiere dislocate sul territorio di ricevere e trasmettere i messaggi di emergenza a distanze diverse. La distanza dipende dalla tipologia di apparati di cui le stazioni costiere sono dotate. Fanno parte del sistema apparati di comunicazione radio ed apparati di comunicazione satellitari quali VHF, VHF DSC, VHF portatili GMDSS, e Radio Telex. L'immagine a video evidenzia le aree di copertura garantite dai diversi sistemi di comunicazione di comunicazione nel Mediterraneo. Da notare che in una significativa area tra Spagna e Baleari e a largo delle coste occidentali sarde, le comunicazioni VHF verso le stazioni costiere non sono garantite, ma possibili solo tramite SSB in AMF media frequenza. Una vasta area prospicente delle coste libiche non è coperta né da radio VHF né AMF, ma solo da sistemi satellitari e radio SSB in HF alta frequenza. Le comunicazioni VHF sono limitate a distanze di 30-70 miglia. In alto mare, pur non raggiungendo la costa, saranno ricevute dalle navi circostanti che potranno rilanciare il segnale di soccorso tramite radio a media frequenza o via I-Marsat. Per contro, l'unità in distress potrà lanciare l'allarme tramite EPIRB anche dalla zattra di salvataggio. Questa rete di comunicazione sui diversi apparati costituisce il cuore del sistema GMSS che fa capo a rigidi protocolli operativi con dettagliate procedure per le comunicazioni sia in fonia sia in digitale. Tutti i moderni apparati radio VHF in commercio sono, ormai per legge, predisposti per la funzionalità di SC, Digital Seleptic Calling, chiamata digitale selettiva. Questa funzionalità è assicurata dalla presenza di un modem integrato all'interno dell'apparato, in grado di veicolare informazioni digitali sovrapponendole alle onde radio. Questa tecnologia consente di inviare messaggi digitali a tutti gli apparati radio presenti nell'area di copertura della trasmissione, fino a 30-70 miglia, in funzione dell'altezza delle antenne. L'apparecchio deve essere collegato a un'antenna GPS, rendendola così in grado di corredare i messaggi con la propria posizione geografica. Attenzione, la funzionalità DSC diviene operativa solo dopo aver inserito nell'apparato un identificativo di chiamata internazionale, MMSI, rilasciato dal MISE, Ministero dello Sviluppo Economico. La tecnologia DSC consente di chiamare direttamente, come se si componesse un normale numero telefonico, l'imbarcazione di un nemico di cui si conosce l'MMSI, chiamare una nave con la quale si sia erotta di collisione utilizzando l'MMSI rilevato dall'AIS, o una specifica stazione costiera di cui si conosca l'MMSI. La funzione più importante della tecnologia DSC consente, premendo a lungo il tasto Distress, di trasmettere automaticamente un segnale di soccorso corredato di posizione GPS ed orario che verrà ricevuto da tutte le imbarcazioni e navi circostanti e dalle centrali di coordinamento delle attività SAR, Search and Rescue, ricerca e soccorso. Il segnale di Distress, inoltrato dal nostro apparato, viene ritrasmesso automaticamente ogni 4 minuti e viene evidenziato sugli apparati radio di tutte le imbarcazioni e navi circostanti e delle centrali SAR segnalandolo con un forte avviso acustico. Sui loro display vengono visualizzati i dati relativi all'unità in emergenza e la sua posizione. L'apparato resta in attesa della conferma di ricevuto della richiesta di soccorso da parte di una stazione costiera. Nell'inoltro di una richiesta di soccorso, la difficoltà maggiore rilevata è quella della corretta comunicazione della posizione GPS. Le comunicazioni sono spesso incomprensibili a causa della diversità delle lingue o dei dialetti, ma soprattutto dalla difficoltà di esprimersi in situazioni di estrema tensione emotiva o a causa di malori, traumi o ferite. Il sistema GM DSS correlato alle funzionalità DSC supprisce a tutte queste problematiche. La funzionalità DSC nell'ambito del sistema GM DSS garantisce l'immediata ricezione delle richieste di soccorso assicurando una razionale e tempestiva gestione dei soccorsi. In un prossimo futuro, il certificato di operatore radio RTF, fino ad oggi rilasciato a fronte del semplice pagamento di un bollettino postale, non sarà più valido, poiché in contrasto con le normative internazionali che prevedono che per l'utilizzo di apparati radiomarittimi sia obbligatorio sostenere un esame e ottenere un certificato rilasciato dalle autorità statali delle comunicazioni. Il programma d'esame è stabilito a livello europeo dal CEPT, Comitato Europeo Poste e Telecomunicazioni, recepito dall'Italia con decreto 25 luglio 2002 numero 214. Grazie. 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 Grazie.